Si riparte alle 15 con l'evento che ha stupito l'Italia del poker. Lippo è pronta a vivere il suo dei due, che vedrà seduti ai tavoli 417 giocatori. Le ostilità si sono chiusi al ventesimo minuto dell'undicesimo livello, quando i bui erano a 1.000-2.000 con ante 200 e restavano in gioco 218 players. La struttura è comunque ancora giocabilissima, se consideriamo che l'everage è a 72.000 chip. Si inizierà come detto alle 15 e fino alle 3 del mattino si andrà a ridurre il numero dei pretendenti alla prima moneta da 90.000 franchi, circa 75.000 euro al cambio. Soddisfazioni per molti in ogni modo, visto che i premiati saranno 79. Certo, 770 franchi non hanno niente a che vedere con quelli che si metterà in tasca il trionfatore. Qualcuno saprà sfruttare la bolla, qualcuno una volta premio spingerà ai massimi, qualcuno terrà d'occhi il payout. Il poker è fatto alla carte, ma soprattutto alla persona, tra poco inizieranno a sognare.